Ciao a tutti e a tutti, bentornati sul mio canale, allora praticamente questa è la terza angolazione che vi faccio, vi devo dire spero che sia fatta bene perché poi essendo col sole davanti non si vede un cacchio, scusate la parola, non si vede niente, intanto vi faccio vedere che sono in questa terrazza qui, per farvi vedere meglio, ah guardate c'è anche un segno strano poi per farla, che ve lo faccio vedere, no? Ascoltate, non so se vi sto facendo vedere, si si vede, ok ragazzi a colazione finisco fino a quella pezzo di pietra d'arte, così poi faccio la quarta e poi vado un po' dall'altra parte, ok ok, tanta colazione è fatta, spero che comunque la telecamera mi resta perché non so quanta la telecamera mi resta, comunque, allora, per oggi è tutto, lasciate like, iscrivetevi al canale se anche voi non avete una volta nella vita, avete visto questo Italia da così, diciamo da così vicino, per oggi è tutto, da Asia Bianchi out!